Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a fare un unboxing molto particolare perché con un giorno di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale è arrivato il Game & Watch di Super Mario Bros. Si tratta di un prodotto celebrativo pensato per festeggiare il 35esimo anniversario di Mario, strizzando l'occhio ai fan di vecchia data. Proprio per questo potremmo definire questa console una sorta di falso storico, perché da una parte cerca di replicare fedelmente l'esperienza delle prime portatili Nintendo, dall'altra le dota di feature e funzionalità che non si sono viste all'interno di nessun modello originale. Prima di procedere all'unboxing però va notato un fattore importantissimo. Come segnalato dalla stessa Nintendo, il Game & Watch presenta un difetto a livello software che non potrà essere corretto in questa prima ondata di modelli, fattore che potrebbe far schizzare alle stelle il valore collezionistico di un oggetto del genere. Detto questo vi invito come al solito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Come possiamo vedere la scatola è semplice, elegante e compatta, quasi minimalista e presenta dei rimandi sia all'estetica tipica dei Game & Watch, le console portatili degli anni 80, sia agli elementi grafici che ormai tutti quanti abbiamo imparato a conoscere del primo e indimenticato. Super Mario Bros. C'è un avvertimento abbastanza grosso che ci ricorda, come tutte le portate di Nintendo, che anche questo Game & Watch celebrativo non presenta all'interno un adattatore per l'alimentazione, mentre sul retro sono presenti le quattro funzioni principali della console che permette di giocare sia al primo Super Mario Bros. sia al Super Mario Bros. 2, quello originale, quello uscito inizialmente soltanto in Giappone e conosciuto in occidente come The Lost Levels, sia una versione aggiornata di Ball, ovvero il software presente all'interno del primo Game & Watch, e poi l'altra funzione principale ricordata anche nel nome Game & Watch, perché si tratta sì di una console, ma anche e soprattutto di un orologio che consentiva di vedere in tempo reale che ore erano. Comunque, bando alle ciance, procederei all'unboxing, cercando di non rovinare tutto, grazie all'amico taglierino. Rimuoviamo la cover e prima cosa da notare subito è che tutti gli elementi grafici di Super Mario Bros. rimangono sulla cover di plastica trasparente esterna, dettaglio fighissimo, ma molto carina l'idea di lasciare sulla cover esterna parte delle grafiche aggiuntive e di lasciare a tutti gli effetti la confezione come quella di un Game & Watch quasi dell'epoca, perché vediamo ci sono alcuni dettagli come Mario che si sostituisce a Mr. Game & Watch, che ovviamente non erano presenti nei modelli originali. Procediamo quindi all'unboxing, cercando di fare meno danni possibili, anche perché, vi ripeto, questa qua potrebbe diventare un'edizione da collezione molto ricercata. Tiriamo subito fuori il cavettino USB-C che ci servirà per la ricarica. Ricordiamo è presente soltanto il cavo ma non l'alimentatore, ma possiamo tranquillamente utilizzare uno da parete come ormai ce ne abbiamo tantissimi all'interno delle nostre abitazioni. Abbiamo le istruzioni che poi guarderemo per bene e il Game & Watch blindato all'interno del cartone. Ecco, si apre così. Ed eccolo qua, un oggettino di tutto rispetto. Abbiamo il D-pad, invenzione del compianto Gunpei Yokoi, che caratterizzò appunto il successo di queste console portatili, i due tasti A e B, e poi la selezione di modalità Game Time e Pause & Set. Scendiamo ora la console con il tasto accensione che vediamo sul lato, dove è presente anche la presa USB-C per caricare la console. Vediamo se c'è un minimo di carica. Eccolo. Press Time Button. Mezzogiorno? No, decisamente no. Ok. Qui c'è la selezione dei giochi. Andiamo prima su Ball. Game A and Game B. Bisogna sostanzialmente catturare le palline facendole rimbalzare. E viene segnato poi sulla parte alta a destra dello schermo il numero di rimbalzi che si riescono a fare. La grafica dei Game & Watch, ragazzi, era questa. Anzi, è molto più chiaro adesso lo schermo LCD. Ovviamente più si va avanti, più si velocizza il tutto. Bene così. Torniamo alla selezione Game. Ci sono anche i due Super Mario Bros. Ormai il primo l'hanno riproposto praticamente su qualsiasi cosa. Buonissima la qualità degli altoparlanti. Non è comodissimo da giocare. Ma più che altro per come sto facendo le riprese adesso. La console ovviamente non è di dimensioni gigantesche, però sono proprio le dimensioni dei Game & Watch originali. Lo schermo, ragazzi, merita. Bello chiaro, luminoso. I colori non sono eccessivamente impastati. Forse c'è un'eccessiva saturazione, però in linea di massima mi sento di promuoverlo. E andiamo invece su Time, perché mi interessa vedere l'errore di Nintendo. Mi pare di capire che... succede tenendo premuto A? The Mario Drawing Song. Designé Mario en chanson. Cansion para dibujar a Mario. Wir zegen Mario. Disegna Mario cantando. Ecco, questo è l'errore, ragazzi. Perché selezionando la lingua italiana... Come potete vedere ci sono i sottotitoli in spagnola. Un errore imperdonabile secondo alcuni. In realtà è marginale, ma effettivamente fa strano e denota una cura un po' approssimativa del prodotto. Ora comunque, la cosa è questa. Si potrebbe esporre come orologio da tavolo. Soltanto una critica che avevo letto e che effettivamente mi sento di confermare è che purtroppo non è stato dotato di un kickstand, di uno stand posteriore che permetta di appoggiarlo e di metterlo in esposizione. Che è abbastanza incomprensibile come scelta, detta sinceramente, perché si tratta chiaramente di un oggetto celebrativo e per i collezionisti punta a essere semplicemente esposto e non può essere esposto. Poco importa, ho tantissimi stand pensati per queste evenienze, però insomma sa di occasione sprecata. Quindi io direi a livello di packaging azzeccatissimo, mi è piaciuto molto e denota una cura magistrale nel confezionare questa sorta di doppio omaggio incrociato alla storia di Mario, ma anche alla storia di Nintendo. A livello software carine le idee, carine le aggiunte dei due Super Mario Bros, però non credo che qualcuno avrà seriamente voglia di giocare questi due titoli su questa console. Rimane un oggetto così da collezionismo e celebrativo, che però non può essere esposto. Essi sono sempre i soliti paradossi di Nintendo. Inoltre quella piccola imperfezione delle lingue selezionabili invertite nel modello europeo, credo soltanto, è un difettuccio non da poco che però potrebbe giocare in favore di noi collezionisti che abbiamo fatto da early adopters e che magari si vedranno schizzare alle stelle questa prima versione nel caso venisse fatta una sorta di ristampa o di seconda edizione che eventualmente andrà a correggere questo bug a livello software. Comunque, poracci, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo oggettino. Per me è promosso nonostante tutto, sempre un po' le cose alla Nintendo, ecco, mai 10 su 10, sempre 8 su 10, 9 su 10, c'è sempre qualche piccola imperfezione che fa storcere un po' il naso, però lo consiglio soltanto ai collezionisti del brand. Non ha un valore ludico ma semplicemente collezionistico. Intanto si è anche spento, quindi direi che è perfetto. Il video può finire qua, visto che andrà messo in carica. Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi unboxing. Io sono il Poro Game, Michele & Watch, ciao!